Buon pomeriggio, bentornati sul Bianconero, c'è grande impazienza già in Ciazzi, ma quando inizia? Ma non inizia, ma c'è qualche problema, sono lì giustamente impazienti perché siamo pieni di notizie croccanti e ne parliamo con il direttore Romeo Agresti. Ciao ragazzi, beh quella che abbiamo dato oggi sul Bianconero è già stata confermata, testimonianza di come ci siano tantissime notizie, ovvero il rinnovo di Savona fino al 30 giugno 2029, dovevamo spoilerato, è derivata la conferma. E Marco Amato. Ciao Rino, ciao direttore, un saluto a tutta la chat. Ecco, approfitto di questo assist che mi ha lanciato il direttore Romeo Agresti per ricordarvi che il Bianconero non è solo la live quotidiana, che ovviamente è fondamentale, importantissima, ma è tanto altro, quindi ci sono gli account social che potete seguire anche proprio con gli aggiornamenti, come in questo caso il rinnovo di Savona, che è stato annunciato qualche ora fa, e poi vi ricordo la possibilità di abbonarvi, come ha fatto tra l'altro prima ancora dell'inizio della live Luigi, salutiamo Luigi Romeo. Vi ricordo gli abbonamenti perché se vi abbonate al canale potete recuperare innanzitutto le puntate live integrali, quindi se ve le perde cercate di non perdervele ovviamente, però se vi capita un giorno di perdervi una puntata, da abbonati subito dopo alla fine la trovate integrale, e poi potete vedere i podcast esclusivi curati da Cristiano Corbo e dal direttore Romeo. E parlavamo proprio di Scesne, no? Ci dicevi tu Rome, è quello un po' più pericoloso da questo punto di vista. Eh sì, perché è un soggetto molto originale, vedo che molti oggi parlano magari che si ritira, ma voi vi ritirereste con 7 milionetti da prendere? Ma io manco un po' di razzo, il razzo, non voglio dire parolacce. Cioè, ma voi lascereste mai 7 milionetti così? Spero che è un eccentrico, però, insomma. E ti dico di più, anche se ne ho 60 in banca, ne voglio 67. Ma perché? Ma perché? Cesni dovrebbe ritirarsi, cioè, se dovesse fare una roba del genere, dovremmo fargli una stella allo stadium, prendere tutti i settori, no? E fare un'unica macro stella. Cesni Stadium? Ma poi non avrebbe senso nemmeno da un punto di vista proprio sportivo suo, non mi sembra uno che... cioè, poi vabbè, magari dici, ho dato tutto. La psiche degli sportivi, ti ricordo sempre quello che fece Michael Jordan, che più forte in assoluto decide di giocare a baseball, poi torna a giocare a basket, quindi sai, la testa degli sportivi, soprattutto quando arrivano all'età ormai del capolinea, però, onestamente, ragazzi, cioè, perché io dovrei rinunciare a 7 milioni netti così? Poi, posso dire la verità? Cesni ancora un po'. Ecco, questo per me, fin qui, è stato l'unico vero errore della Juve, in questa sessione di mercato. Cioè, non aver piazzato prima Cesni, ma con la certezza di farlo. Poi prendere di Gregorio. Poi prendere di Gregorio. È un errore. Sì, sì. Però Cesni, ragazzi, a me stupisce tantissimo che abbia o mercato limitato, o magari delle situazioni che non... che non catturano la sua simpatia. Cioè, Cesni è uno che può fare il titolare ovunque. Ma ovunque, eh. È l'ingaggio, secondo me. È lì il nodo vero. E allora tutte le chiacchiere, se sono un problema per la Juve. E allora sono tutte parole, Marco. Ebbè, però che deve fare? Deve rinunciare lui ai soldi? No, però, ragazzi, a me quell'intervista lì, cioè, non torna. Perché se tu dici... È troppo romantica. Io non voglio... Eh, ma certo, è un romanzo quella. Io non voglio essere un problema, però intanto all'8 di agosto sei ancora qui. Cioè, alla fine, in questa... Allora, in questa situazione, ha ragione, secondo me, Cesni. Punto. Perché se tu mi fai fuori, allora io ho tutto il diritto di decidere dove andare, come farlo. Però poi non mi puoi fare quell'intervista lì. Perché quell'intervista lì me la fai se il giorno dopo risolvi il contratto. O se te ne sei andato da un'altra parte. Quindi, è una vicenda onestamente, ragazzi, secondo me è mal gestita tutto tondo. Saltiamo un attimino a Chiesa, no? Fazio dice, quindi non so se Fabio, se il difensore. Novità su Chiesa, dopo il post Instagram, non è un ok, ma è uno zero. Non è cambiato niente. Ragazzi, vale... Se cambieranno idea, ce lo dirà direttamente Tegomotto. Tegomotto è stato chiaro. Chiesa è fuori dal progetto. E chieda se è sempre allenato con la squadra. Cioè, non sporta niente. Anche Tiago, Jalò, se l'è una squadra meno fita. Quindi, sostanzialmente, amici e amici, non è cambiato niente. Noi dobbiamo fidarci, e affidarci anche le voci ufficiali, no? Le voci... Cioè, le parole di Tiago di Pescara non ammettono repliche, non ci sono interpretazioni. Poi, cosa voglia dire quel post di Chiesa? Bisognerebbe chiedervi a lui. Ma in chiave Juve? Tanto adesso, ragazzi, abbiamo anche... Avremo la prova provata, cioè, sabato, pomeriggio, si parte per la Svezia. Se Chiesa non c'è, è come, no? Non è cambiato nulla. Anzi, poi magari, il giorno dopo mette un altro post, e ci ritroviamo a fare altre interpretazioni. Ad oggi è la linea, poi, prende in mano la situazione, il papà cambia entourage, tutte cose che vedremo cosa succederà. Ad oggi vale la linea di Tiago Motta. Parla Tiago Motta, parla di Juve. Però, mi rispondete per piacere a Dwight, se no, giustamente, poi se la prende con me. Dice, perché Chiesa si allena in gruppo rispetto agli altri esuberi? Ho letto, eh? Non abbiamo una risposta, ragazzi. Ecco. È sempre stato così, e... si è allenato in gruppo anche quando poi non è stato convocato, per le gare... per la... per Fescara. Non abbiamo... non abbiamo una risposta. Evidentemente la Juventus ritiene che questo sia il trattamento da riservare, da uno come lui. Poi, come hai detto tu, ci saranno le convocazioni per l'ultima amichevole, e anche lì, diciamo, nel momento in cui magari viene confermata la non convocazione, ancora di più, no? Rimaniamo sulla... sulla solita situazione, per Chiesa. ci schifiamo le eccezioni, però intanto 20 minuti... Sì, sì, infatti, andiamo a raccattare, a mettere cifre. Allora, prima di chiudere, Marco, visto che appunto, dicevamo, l'ultima amichevole, domenica, contro l'Atletico Madrid, ci sarà l'ultimo test amichevole, prima, poi, dell'inizio del campionato, pochi giorni, una settimana dopo, contro... contro il Como. Ti chiedo le ultime, le ultime verso l'Atletico. Sì, domenica alle 15 a Göteborg, beati loro che vanno al fresco, Juventus-Atletico Madrid, partenza prevista da Torino, sabato, nel pomeriggio, oggi la squadra si è allenata al mattino, un solo allenamento, tattica, e poi per finire, lavoro fisico, perché fanno tattica, partitella, e poi per chiudere il lavoro duro, quello atletico, domani altro allenamento, poi, come dicevamo, sabato la partenza, e, onestamente, vi aspetto prove generali di Como, qualcosa che ci si avvicina, quindi, è qualcosa che si avvicina anche a quello che abbiamo visto contro la Next Gen, che secondo me, più o meno, potrebbe essere la prima Juventus che vedremo in campionato. Non ci saranno, come sappiamo, né Azic, né Miretti per infortunio, credo che difficilmente li vedremo per le prime due di campionato, molto più facilmente dopo la Sassa Nazionale, e poi, come al solito, la grande curiosità sarà per la lista dei convocati che uscirà sabato per vedere Esuveri, eccetera, ma non ci aspettiamo niente di molto diverso da quello che abbiamo già visto per le ultime amichevoli. Se tu ora mi sai dire, Marco, almeno tre giocatori del Liverdon, io ti prometto che ti do il mio posto, ti do il mio posto il direttore editoriale. Uno, Marley Hacker. Bravo, dimmi la seconda. Paraculata, ma questa è ottima. Una chiamatona, questa.